Salve a tutti ragazzi e bentornati a McShowsha, siamo tornati su FIFA 17, siamo pronti per il nostro primo spacchettamento su PS4 In realtà non è il vero primo spacchettamento su PS4 perché vi faccio vedere, vi avevo detto in una puntata di Clash Royale Che al posto di quel video doveva uscire un pacco opening, era proprio questo qui, ma purtroppo ragazzi che è successo? È successo che l'ho cancellato! Oh! Quindi ho solamente la mia facecam di io che esulto per aver trovato questi giocatori qui, tipo Leno, Matic, che comunque valgono un bel po', ho trovato due volte Svice Tiger Un sacco di giocatori buoni alla fine, ero morto col Carrasco, un culo che non può mai mancare perché è un culo Però quindi ho pensato, ok, lo rifacciamo, rifacciamo lo spacchettamento su PS4 e poi magari alla fine del video vi metto anche qualche giocatorino che ho trovato all'ultimo su Xbox One Così almeno ci leviamo tutti i vecchi spacchettamenti, anche perché ragazzi è uscito il nuovo team della settimana Chi abbiamo lì in attacco? Cristiano Ronaldo ATT Voi direi, vabbè Cristiano Ronaldo IF, no! È Cristiano Ronaldo IF ATT Che cambia, cambia veramente tantissimo, penso che varrà un macello Per il resto c'è anche Lewandowski e un po' di altreizzazioni tipo Mueller, Arnautovic Che sta... che... cosa ti sei fatto in testa Arnautovic? Se trovassi Immobile IF io sarei contento perché è un cacchio di animale E ragazzi lasciate davanti i mi piace perché se superiamo i 30.000 mi piace, lo so che qua vi sto sfidando Ma facciamo una live su FIFA la prossima settimana Io l'ho detto, io l'ho detto Abbiamo i pacchetti promo che sono questi qui 30 oggetti di cui 18 orari Ce ne sono solo due e io inizio così Perché me la sento ragazzi Stanotte ho sognato che trovavo Oh! No, vabbè Oro raro ATT The West Ham Chi è? Zazza Mannaggia Zazza Rigori c'ha 99 Siamo partiti con un 80 Zazza è buono, me lo tengo perché possiamo fare delle formazioni particolari Mentre passa l'ambulanza Che però dal suono mi sembra che non è l'ambulanza Ah DC Godin No! Perché avete un altro difensore centrale e un ruaggio al cazzo di Atletico Madrid? Dai non mi potete far iniziare così Oh però aspetta, Felipe Anderson Felipe Anderson Tutti zitti che mi sa che è Felipe Costambotto No, un cazzo Jimenez però deve valere qualcosa Su No, un cazzo Oh matrimonio, una pulletana Non può capire se sei di Milano Ok ragazzi, adesso si inizia Perché poi non ho le cuffie? Scambiatemi per FabiJ per favore Eh beh, eh beh Chi è? Aquilani Guarda c'ha Cioè Aquilani c'ha gli occhi talmente vicini ragazzi che è un ciclope Ma io non mollo ragazzi Non mollo Anche se Ma dai Chi è? Il portiere de mi nonna Il portiere de casa de mi nonna Guarda Marcolino Il Mafia Royce Eccola qua Una pallina È buona DC Che cosa è? Chi è? Ma perché è oro questo qua ragazzi? Non lo riconosce neanche la madre Ora per la legge dei grandi numeri Uno buono C'è deve sci Eccolo la pallina è piccolina Va bene lo stesso DC De Rossi Ne ho trovati 99 di De Rossi Va bene Sanabria Quindi ragazzi Portate rispetto Sennò sa rabbia Vi voglio mostrare Ecco è buono questo Questo è buono ATT Dai Dumbia Dumbia Correva come un cane Buggatissimo Dumbia Ecco la Sard Ti ho sognato Sard Ti ho sognato Viola Oh Ok AS De chi? De chi? Sinclair Bob Sinclair Io però vi volevo mostrare quel pack opening Perché mi esaltavo come un Non lo so come una lumaca Si esalta quando vede la pioggia Ok la pallina è piccola Può essere buona ATT Guagliarella Con due guagliarella Ma ti avevo già trovato prima Che cosa ti ha fatto pensare che adesso ti avrei tenuto? No Tornarei al club a morire Che poi vedete pensare Dici Oh quanto sono contento di aver buttato un pack opening Una pallina Della Lazio Marchetti Ok buono Marchetti Buono Marchetti Oh ragazzi Mi avevo concentrato Fa il colpo Ok questo è buono Si? Ma chi è dell'Honduras? No non so se è dell'Honduras Vediamo se indovino le bandiere Honduras Chiamatemi Mike Chosha L'indominatore di bandiere Oh aspetta questo è buono Zitti tutti Cioci del Milan Sosa Madonna questo non lo sa manco lui che gioca col Milan Oh Di Maria Sei brutto Però magari dentro di te possiedi una forza innata Infatti guarda quanto sei brutto Maidana Oh Questo è buono Portiere Carnesis Poi 82 Carnesis Già ce l'ho Ce l'ho nella squadra È il mio titolare nella mia squadra 3 su Xbox Oh Marcolino Mafiaros Non voglio guardare ragazzi Ma voglio guardare Anche se sbircerò un poco È buono È un difensore del Napoli Ok Hai sai Non so Non so come si pronuncia Isai Dììì Forza Mike Forza Mike Forza Mike Di Maria Di Maria no Di Maria Tu mi stai portando sfiga in questi giorni Potrò non guardare Porco Due di Maria Granquist Ok Una pallina ATT Dell'Inter Ah Palasio Pensavo i guardi Ok vabbè Palasio va bene Per il fatto è calata I guardi palacio adesso 81 di velocità una volta correva come un cane però però vedi bravo palacio che mi porta un po di soldi Io credo in hurricane ci credo Bravo vedi bravo eri o c'era no glue Tira le punizioni c'era no glue dai secondo me me so giocato il fatto che ho trovato leno nello scorso pack opening quindi mo non tiriamo un cazzo infatti Hilbert perché non sei oro raro che? Chumba wamba perché nel viaggio sei stato uno stronzo Battiti dell'inter e no l'ho trovato mo e dai no l'ho trovato mo Da rega con sta camicia ho trovato robin todi è buono è un difensore della juve e a san benatia No non si chiama me di benatia porco 2 meno male va a faccina dammi benassia che fortissimo mi piace tantissimo di Ancora lui a che porta bene rega porta bene porta bene porta bene Ma nooo Chi è armani armani comio popolo della terra donatemi la vostra energia No 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 chi è giara o me lo devi fa uno forte dai un inf ancora non ho trovato un cazzo di if ragazzi ecco a di Grosischi Questa è l'originale corre come un cane Basta carna Ragazzi vediamo tutti i doppioni Vizcarondo Vizcarondo Ecco mi sono trovato da solo vertonghen di arrea e vertonghen a questo è buono ragazzi ma pure trovato piazza ultimi pacchetti ragazzi ultimi pacchetti mi apro pure di maria perché mi sento fiducioso Non lo devo aprire di maria porta sfiga cazzo No non devo aprire di maria vabbè Oddio l'ha trovato uno buono di maria e si è giapponese chi cacchio è oli e benji Ultimo pacchetto con i crediti non voglio vedere perché ho speso 7.500 crediti per un pacchetto che mi porterà Un cazzarolo porco boio Un cazzarolo per un pacchetto che mi porterà Perché 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 non ha acceso perché non funzioni cazzo nel momento in cui devi registrare Porco 2 porca tu Eh sì manda messaggi dai Silva del cacchio Vediamo un po' quanto vale Sto maledetto Silva Zitto Zitto Eh 7.000 vabbè Baffancina e non registri Bene ragazzi questi sono i giocatori inutili che abbiamo trovato il più forte è stato un 83 Veramente ridicoli sto giro ridicoli Un saluto a tutti a Mike Shosha Mi raccomando tenetemi mi piace e spacchettiamo live su YouTube Alla prossima ciao ragazzi ciao Il bollo ma la bolla Il passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha